L'emergenza a maltempo sul Gargano non ha lasciato indifferente il resto della Puglia. Sui luoghi travolti da un mare di acqua e fango hanno compiuto un sopralluogo ieri sorvolandoli in elicottero il presidente della regione Nichivendole, l'assessore Guglielmo Minervini, oltre al capo della protezione civile Gabrielli. Da Bari o meglio della società di calcio è arrivata subito una mano per far fronte ai milioni di danni provocati dall'ondata eccezionale di pioggia e dai conseguenti straripamenti di fiumi e torrenti. Il presidente Gianluca Paparest ha deciso di organizzare partiti amichevoli e altre iniziative per raccogliere fondi. Del resto i disagi sono enormi, distrutti camping, lidi e seriamente danneggiati alcuni hotel, oltre ovviamente a centinaia di abitazioni private. Cementificazione selvaggia e canali di scolo non ripuliti hanno contribuito a peggiorare la situazione come spesso avviene in queste circostanze. Da Peschici a Vico, da Carpino a San Marco in Lamis, gli abitanti aiutati dai soldati della brigata Pinerolo e da volontari della protezione civile stanno cercando di liberare strade scantinati invasi da fango e detriti. E ovviamente al dolore per le cose andate perdute si aggiunge la disperazione per la morte di Antonio Facenna, l'allevatore di Vico del Gargano scomparso mentre cercava di raggiungere la sua azienda, e per il settantenne Vincenzo Blenks, il cui corpo è stato recuperato in mattinata nelle acque di Peschici.